A Bucharest le ginaste romene e russe a confronto alla vigilia delle olimpiadi. E' sull'attrezzo la sovietica Paolina Astakova che risulterà la migliore di tutte. Sulle parallele e ineguali dà spettacolo la russa Larissa Latinia, campione olimpionica di Melbourne. Non sa se riuscirà a riconquistare la metaglia d'oro a Roma. Dice che ce ne sono tante migliore di lei. Alla romena Elena Leusteau il primo premio negli esercizi a corpo libero. Sta fra l'acrobazia e la danza, uno spettacolo di forza, di morbidezza, di ritmo.